Aforismi per una vita saggia Arthur Schopenhauer, 1788-1860, filosofo tedesco, uno dei maggiori pensatori del XIX secolo e dell'epoca moderna, in Aforismi per una vita saggia, dice L'uomo è tanto poco ragionevole che si lascia condizionare più dai bisogni artificiali che da quelli naturali e necessari. Così egli non vive in sé ma fuori di sé, accumula ricchezze su ricchezze e solo per far vedere agli altri che lui è ricco, si umilia, si arruffiana e vende l'anima al diavolo per salire di grado in una carriera e solo per il piacere di aggiungere una paroletta al suo biglietto da visita. Dannarsi per un titolo, quale follia! Sempre per lo stesso motivo, l'uno si fa costruire case che non abiterà mai, l'altro va a fare i bagni in capo al mondo e ritorna con l'illusione che tutti lo guarderanno come se fosse la venere anadiomene. L'altro ancora passa la vita tra un ricevimento e l'altro e crede, con ciò, di essere un rubino del sistema solare. Perfino quelli che dicono di disdegnare la folla e si ritirano in luoghi appartati, lo fanno in considerazione di ciò che diranno gli altri. Fingono di vivere isolati ma in realtà strizzano l'occhio al gran mondo. Commento E' proprio perché è ancora ragionevole e vive ancora di mente e poco di coscienza che l'uomo vive fuori di sé. Ma grazie all'esistenza di questa ragionevolezza avviene il passaggio dalla vita mentale alla superiore vita di coscienza.